La palla è per Lecchi, va l'australiano a mettere il pallone in mezzo, possibilità ancora per l'Ingolstadt e calcio di rigore per il fallo su Benjamin Hübner. Parte Lecchi e para Teton! Maxim che cambia totalmente al lato del gioco per Florian Klein, torna a farsi vedere in avanti, Klein con il sinistro e c'è il gol dello Stoccarda con il tocco sottoporta di Daniel Di Davi. Fuori gioco, grande come una casa, la tocca ed era in posizione irregolare direi. Ed è finita! Lo Stoccarda porta a casa la prima vittoria stagionale casalinga. Grazie!